Che aveva nutrito la speranza, che Allegri può essere esonerato a stagione in corso, dimenticatevelo. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Ebbene sì amici bianconeri, andremo ad approfondire quello che è successo. Mettetevi comodi perché? Chi aveva ancora di più nutrito la speranza che Antonio Conte potesse essere chiamato a stagione in corso perché la voce che girava dopo Juventus in Genova era questa. Ora, vi devo deludere, vi devo deludere amici bianconeri, ma mettetevi comodi che andremo a approfondire bene quello che è successo in queste ultime tragiche 48 ore. Iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito, se avete piacere a farlo fatelo pure, io sono sempre qui a difendere la mia Juventus. Lasciate un like, commentate e attivate la campanellina così non vi perdrete mai un video e siamo sempre live. Invelle, c'è da incendemente madame e messia e signore e signori, nei signori, quelli veri e quelli copi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Finita la partita di Juventus in Genova, un sera zero veramente penoso, addirittura la voce che girava, ma parliamo di voce ragazzi, voce indiscrezioni, che Giundola avesse contattato Antonio Conte per farla arrivare a stagione in corso alla Juventus con un imminente esonero di Massimiliano Allegri. Ma quando pare la società ha bloccato tutto e ha fatto capire che Allegri resterà l'allenatore della Juventus fino a fine stagione. Fermi però, fermi, fin quando la Juve è dentro la programmazione, chiamiamolo il progetto, l'obiettivo stagionale di essere tra le prime quattro. Oggi la Juve è terza e la Juve ritiene che Allegri attualmente sta centrando l'obiettivo prestabilito. Ci può essere tanta rabbia, non siamo sicuramente tutti d'accordo, io il mio pensiero è solo uno. Perché rischiare di perdere ulteriori punti per arrivare a fine stagione fuori dalla Champions e ritrovarci le ultime due o tre giornate fuori dalla Champions, vincendo le ultime due tre partite con un nuovo allenatore, ci ritroviamo in Europa League. La Juve, quanti soldi perde? Quasi cento milioni di euro se non ha proda in Champions League. C'è anche da dire che quest'anno, se le cose stanno così, anche la quinta classificata venga in Champions League. Ma il rischio della Juve di oggi, con sette punti in otto partite, ragazzi, è proprio palpabile, proprio si tocca con mano il rischio di arrivare addirittura tra sesti settimi. La media è da retrocessione. Voglio essere onesto, un po' ci avevo sperato quando ho sentito questa voce, questa voce che girava e diceva attenzione Antonio Conte può arrivare alla Juve. Mi sono informato, mi sono informato con qualche amico giornalista e mi ha detto BJ, Beppe, ad oggi sono solo voci. E se sono solo voci, le voci, come dice Allegri, se li porta e vendo, anche perché a lui, se se li porta e vendo, forse gli fa piacere o forse no, perché Allegri spera di essere esonerato per, come dire, papparsi il prossimo anno una stagione intera. Però c'è anche da dire una cosa, la Juve sicuramente a fine stagione Allegri lo esonererà. Cioè non è che Allegri rimarrà anche il prossimo anno, Allegri parla addirittura che questo mondiale per club, per lui deve essere una bella esperienza. Sicuramente Allegri il mondiale per club se lo vedrà in tv, perché non siederà sulla panchina della Juventus. Questo qua, signori miei, è una cosa che vi posso dare per certo e sicuro. Allegri non sarà il prossimo natore della Juve, però oggi dirvi che la Juve esonererà Allegri la stagione in corso, fin quando la Juve nelle prime quattro posizioni, assolutamente ve lo posso già sventire. Qualcuno fa il cattivo e dice allora speriamo che la Juve perde il quarto posto. Ragazzi, allora, lì non sono d'accordo. Lì non sono d'accordo quando si parla, speriamo che la Juve perda così Allegri viene esonerato. Io sono il primo a criticare Allegri quando sono fuori dallo stadio, perché io voglio essere chiaro su una cosa, su un concetto, e rimango fermo. Oggi critico Allegri fuori dallo stadio, ma se sono dentro lo stadio, io Allegri non lo critico, perché dentro lo stadio, io ve lo ripeto e ve lo dico per chi non lo ha capito, io sostengo la mia Juve. Io sostengo i ragazzi, devo sostenere anche Allegri, fin quando siede sulla panchina della Juve. Dentro lo stadio, in curva suddi, io devo sostenere questi ragazzi, devo sostenere questi uomini, devo anche sostenere a malincuore anche Allegri, che oggi non sono d'accordo con lui. Fuori dallo stadio sono libero di buttare la critica, ma le mie critiche, e ve lo ricordo una cosa, sono sempre molto educate, perché parlo di calcio e non vanno mai sul personale. Qualcuno mi dice, ha detto a BJ, dovete abbandonare lo stadio, mai! Ragazzi, la Juve si sostiene a prescindere, dalle vitro delle sconvitte, ma ragazzi non sono discorsi da fare, non sono discorsi da fare, la curva sud è lì per sostenere, al di là della vittoria, che sia chiaro, criticatemi pure, arrabbiatevi pure, ma non ha senso abbandonare la squadra, non ha senso le 90 minuti, che poi sono di più di 90 minuti, perché noi tifosi entriamo addirittura quasi due ore prime, iniziamo già a cantare due ore prima della partita, per poi aspettare fin quando i giocatori entrano dentro gli spogliatori a fine gara e noi ancora continuiamo a cantare, per continuare a cantare perfino quando usciamo dallo stadio, perché noi siamo la curva sud, perché noi vogliamo sostenere la Juve, a prescindere dai risultati, questo che sia chiaro, in altri settori poi sbagliano, fischiano, contestano mentre c'è la partita. Ragazzi miei, non sono d'accordo, perché sbagliatissimi, il fischio è proprio sbagliato, devi criticarle, farlo pure, oggi ci sono i sociali per criticare, ma lo stadio si deve andare per sostenere la Juventus. Ritorniamo un po', come dire, alla delusione, quella delusione che qualcuno sta prendendo anche un po' male, che la Juve ha deciso di non essere allegri, fin quanto allegri, mantiene l'obiettivo stagionale, entrata nella prima quattro. Però ripeto, prima di chiudere questo video, ripeto, occhio carissima Juventus, che non voglio che ci troviamo fra quattro, cinque giornate, sesti, settimi in classifica, perché poi sarà duro e difficile ritornare fra le prime cinque posizioni. Ripeto, la quinta posizione oggi ci porta anche in Champions, ma io questo rischio non lo correrei, e ve lo dico già subito, a malincuore, da uno che sostiene la squadra, da uno che ha sostenuto Massimiliano Allegri, e lo continuano a fare se sono dentro lo stadio, ci mancherebbe altro. Ma oggi, secondo me, la società, una cosa giusta e buona è sollevare dall'incarico Allegri per il bene della squadra. Fino alla fine, forza, Juventus, io in nevaio, possa bene che a tutti i picciotti, ciao!